Il progetto Tessere Legami è un progetto fatto apposta per costruire amicizia, per conoscersi nei nostri paesi che sono paesi di montagna, paesi dove gli inverni sono lunghi e spesso fa brutto tempo e quindi abbiamo chiesto ai comuni e alle scuole degli spazi dove la mamma e il papà possono trovarsi con altre mamme e papà nella stanza accanto, mentre i bambini che hanno appena nati fino ai 6 anni possono trovarsi tra di loro, giocare e fare delle cose anche interessanti con delle persone che gli propongono delle attività nuove e mai fatte. Il nostro progetto che si chiama Tessere Legami punta a strutturare soprattutto nel territorio alcuni spazi dove le famiglie possano incontrarsi, condividere delle fatiche che derivano dalla funzione proprio educativa e poter incrociare anche domande ed offerte anche rispetto a servizi di prossimità, quindi molto legati a quelli che possono essere anche dei bisogni propri di quotidianità. Questo progetto si articola poi all'interno di un'ampia rete che vuole coinvolgere le scuole, il sistema 06, proprio per aumentare quelle che sono le opportunità nei confronti di bambini che vivono nel territorio montano e delle famiglie come patrimonio soprattutto delle comunità locali del territorio del bellunese e punta a strutturare queste reti forti tra comuni, scuole, associazioni di famiglie, reti di partenariato, proprio per sostenere quelle che possono essere delle opportunità di crescita maggiori per i bambini dentro l'idea che il contrasto alla povertà educativa nasce proprio da quella che è un'offerta importante che il territorio deve fare.